Oggi niente annunci perché mia moglie mi aspetta a casa per fare buga e buga e quindi tizi che dovete prendere un treno guardate i cartelloni perché io me ne vado. Nel treno regionale lento in partenza da Campalto e in arrivo a Campobasso comunichiamo di spegnere i telefoni per il mancato campo, prendetevela con la stazione. Il treno regionale è in arrivo a Castello del Cazzo Duro con un ritardo di circa 13 ore per la mancata presenza di uomini, ci scusiamo per la volgarità. Il treno regionale del genitivo Sassone è in ritardo perché ha lasciato dietro dei vagoni, alcuni senza tettuccio altri senza seggiolini e altri perché non volevano partire, purtroppo non arriverà in stazione entro i prossimi millenni, ci scusiamo.